Non lo puoi vedere, non lo puoi toccare, lo puoi soltanto ascoltare, ma è che bocchiai! Signore e signore, buonasera a tutti i deprovati e a tutti questi malati che ci piace in calola. La vostra Luana Zozzi vi presenta il grande artista, Mike Pocciai, con la canzone O' Bucchina. No, 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 no! Fijet Bucchi, è sin un docat, io do metri in the pack!